Ciao a tutti che ciotti e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Ant Farm Survival, episodio 4 ringrazio tantissimo per tutti, mi piace che lasciate, mi sta piacendo un botto sta serie e vi amo tutti a prescindere, vabbè bestia, lascia stare allora, mi avete informato nei commenti molto gentilmente che io ho dell'acqua a disposizione io volevo prendere un secchiello e fare tipo una farm lì tutta particolare, cioè tutta fatta bene però giustamente voi vi dite, Surya, che cazzo dici, falla così e va a fa culo, giustamente quindi io ne faccio una ho, poso qua gli stichetti, prendo invece i mellons seeds e anche i seeds normali riprendemi per favore, fammi il favore, grazie mille e vado con molta cattiveria qua ci sono i maglialonzi e le muccaglionze, le muccoglionze, no ok, ok spacco un po' di erbaccia, spero di non fare male alle mucche, poverine che non c'entano un kaiser e tra l'altro sono strautili perché dopo voglio farci la farm a queste cagne allora, il blocco d'acqua dà fertilità, per così dire, fino a 4 blocchi di distanza quindi qua in teoria posso farlo tutto posso rendere tutto fertile, anche se vabbè in realtà non ha molto senso allora qua nell'angolino ci metto tutti i seeds e di qua invece ci mettiamo se ti levi per favore, grazie mucchetta, l'apprezzo molto ci siamo i mellons seeds, guarda qua che bellini mettiamo qua e qua e ti levi, grazie e anche qua così abbiamo dei meloni, qua che li scelgiamo in simpatia bello, spero solo di non rompere niente poi quando torno ah, la O fammela posare, c'hai ragione, c'hai ragione poso la O subito ok, sai, vedi qua la poso la O perché, se vi ricordate, io ora ho una missione da svolgere io ho una missione da svolgere questa missione coinvolge scheletri, botte da orbi e spadate a non finire probabilmente anche un po' di frecciate e ora che ci penso, prendo un po' di terra perché non voglio, non vorrei non vorrei morirci male cadendo e perdendo la cobblestone infatti se notate ho come è solo lo stretto necessario non ho nient'altro se non spada, stone pickaxe and dirt iniziamo male, allora, sti maiali non so come siete abituati voi, ma qua io lo vedo un po' da stronzi non saltate sopra sta roba, sennò vi ammazzo tutti non ci metto niente, non ci metto niente, vi ammazzo tutti ti smettete di saltare come una capretta che sei una mucca, non sei una capretta tutti qua che si chiamano le caprette di Heidi, non ho capito allora, buttati qua allora, lo scheletro no, non era qua lo spawn di scheletro infatti là c'è il ragno era qui vicino qua c'era lo spawn dei cani bastardi no, era qua sopra, fammi risalire tanghiu era qui c'era una roba dove si scendeva allora, sentite sentite, a me Fottesega vi ammazzo tutti vi ammazzo tutti se vi fate perdere i meloni allora e anche con molta calma eppure io mi scimetto mo cattaraia no no no, ho bisogno per forza o di spostare quegli animaletti bastardi o di farmi la farm da parte come dicevo io quindi questi semi di qua li metto per sicurezza mi mangio un paio di mele intanto l'ho preso con l'albero, non dovrebbe essere un problema e vado dove era qua, era qua giù no, ah, si che era qua giù devo semplicemente scendere non da qui devo scendere da qui ooooh, neanche questo è un labirinto parca vacca sali di qua ah no, ok, ho capito devo andare dove ci sono le mucche e salire e cioè salire entrare nel buco delle mucche oddio no, no, no suonava male cancella, cancella stacca, stacca devo entrare in questo buco che non è il buco delle mucche e teoricamente qui c'era no ah, ah, ok, ok era là, era là devo scendere dal buco che ho fatto io che è questo buco che tra l'altro quasi quasi mi conviene sai com'è eh, renderlo un po' più bellino prendo un po' di questo faccio in modo che sia una scaletta come si deve tutto il rispetto, eh ma qua dopo se ci cado ne so, cazzi fai così c'è anche una mela eh, sì, una mela la torta di mele hashtag torta di mele ok, ho scrivato tutto qua attorno la mela finirà tra brevissimo ma noi potessimo noi siamo dei pro player vediamo la terra così fai così e fai così così possiamo salire e scendere a gradimento ora io gli avvicino tutta cattiveria faccio in modo che non mi possa buttare giù si spera è scaletta di questo cazzo questo è shiverfish ma qua è tutto buio non si vede un caso e scappa scappa stacca stacca ecco cosa mi sono scordato mi sono scordato le torce madonna mi sono scordato le torce non c'era nessuno ok, non è che sono in peaceful no, ok, sono in arde che attrae no, no, ok, ok non sono in peaceful non sono in peaceful però ora mi sorge un problema mi sorge un problemuccio di quelli fa perucci a parte il legno che già inizia a mancare a bestia qua ci sto pezzo e va a fa oltre al legno che inizia a mancare a bestia se non era quello lo spawner non è che non c'era uno spawner perché se vi ricordate tipo non era lo scorso era l'episodio prima erano andato vicino a quella caverna e c'era uno scheletro allora io ho ipotizzato che ci fossere che ci fosse uno spawn di di scheletri però se così non è mi rovini un po' i piani eh, signor cane bastardo di un silverfish con tutto il rispetto con tutto il rispetto ecca troia ma te ti spacco perché se sei di silverfish a me è fotte sega con tutto il cuore con tutto il cuore invece qua sotto mi interessa era qua sotto io lo sento eh, lo vedi che là c'è lo scheletro? lo vedi il pezzo di merda? però ci sono anche gli scheletri cioè i silverfish madonna ste cosette buggate mi fanno non venire mal di testa così, a caso quasi serve anche una palla però io con molta abilità stealth cosa che non ho mai chi segue i miei let's play lo sa posso fare una cosa di questo tipo picchiare a merda senza farmi uccidere di botte piazzare una torcia tattica e vedere come siamo messi ma la continua attenzione se non ci fosse lo spawner di scheletri e se non ci fosse mi sa che non c'è allora metto un attimino qui un blocco per evitare che mi possono buttare giù perché qua ho visto degli silverfish si fuck ya bitch fuck ya oh fuck ya bitch volevo dire si blocchiamo qui perché non voglio poter scendere neanche qui ma te vaffanculo non me lo fa colpire beh allora ti chiuso fuori e ciao è stato bello conoscerti allora com'è la situation qui che questi cani io li voglio far spawnare quindi leviamo sta torcia io ora potrei tipo aspettare un attimino qua tra l'allero tra l'allà aspettiamo che spawni il cane bastardo non spawna oh è spawnato fuori no non è spawnato fuori non spawna devo fare spazio per lo spawn cos'è vuoi spazio per lo spawn madonna il signorino schetro il principino proprio se non c'è abbastanza spazio lui non spawna no no va che lo picchio ti picchio guarda che come spawni ti picchio di man guarda che divento cattivo se non spawni cioè sono cattivo anche se spawni perché tanto mi servono le ossa guarda che dovresti spawnare dovresti spawnare non vorrei fosse lì sopra io lo sento lo scheletro qua non c'è un kaiser qua è tutto buio quindi ora tornare a casa sarà un'impresa ma bellissimo proprio ok perfetto oh mio dio allora è comunque uno spawn beh allora io per ora ti faccio una cosa di questo tipo e direi che con calma tra questo episodio e il prossimo ci lavoro un po' a quella cosa finiamo la torta di mele qua sento un po' di baghini sento cani bastardi che ululano ma è vero cosa mi è successo niente niente mi sa che devo fare un po' di azione della serie tipo pro player minecraft building 1 1 punto esclamativo cioè le peggio cose della serie fare un vero e proprio spawner per rendere il tutto efficiente certo non ho acqua per renderlo efficiente 100% 1 1 però insomma ci arrangiamo con quel che abbiamo io vi ho detto guarda che se mi spaccate il melone madonna va a mazzo aspetta ho sbagliato va a mazzo tutti che lascia stare lascia stare sul serio si sta inculando l'altro magno che porci che porci letteralmente letteralmente peggio cose comunque io vi ringrazio tantissimo per la visione sarebbe bellissimo se lasciaste un mi piace se vi è piaciuto questo episodio se vi sta piacendo un fatto che è giornaliera io vi ringrazio tantissimo per la visione ciao tu lo tu lo tutti ah va che bellino fuori piove